Miau! Miau! Uh 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 uh! Uh 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 uh! Uh 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 uh! Miau! Uh uh uh! Uh 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 uh! Benvenuti alla prima puntata di Cronache Bestiali, la nostra nuova trasmissione nella quale ci occuperemo dei nostri amici animali. Parleremo di salute con il dottor Martini e del dottor Albanese, ma anche di alimentazione e capiremo come insegnare dei semplici comandi ai nostri amici animali. In ogni puntata conosceremo anche un amico a quattro zampe che è in cerca di famiglia. Uh uh uh! Uh 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 uh! Uh 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 uh! Andiamo con il dottor Maurizio Martini delle malattie trasmesse da parassiti. Ecco, quali sono le più comuni? Allora, intanto i parassiti che possono trasmettere malattie nei nostri animali da compagnia sono principalmente le pulci, le zecche e le zanzare. Le pulci e le zecche trasmettono delle forme parassitarie, per esempio nel gatto le pulci trasmettono l'emobartonella, si chiama, che è una malattia che va a attaccare i globuli rossi del gatto e quindi dà una forma di anemia. Anche nel cane, sia le pulci che le zecche attaccano malattie che colpiscono anche in questo caso i globuli rossi, quindi principalmente danno forme di anemia, nella fattispecie la riccheziosi e la babesiosi per esempio. Quindi diventa fondamentale trattare gli animali contro questi tipi di parassiti. Oggi in commercio ci sono numerosissimi prodotti che servono a tenere sotto controllo questi parassiti, sia uccidendo il parassita stesso e le forme immature del parassita, perché non esiste solo l'adulto ma anche le forme larvali e le uova, sia creando un effetto di repellenza, quindi il parassita non riesce o riesce per pochissimo tempo a salire sul pelo dell'animale e quindi non ha la possibilità di fare il cosiddetto pasto di sangue, quindi non riesce a pungere l'animale e quindi non trasmette queste forme parassitarie che in alcuni casi possono essere anche molto gravi e portare a morte. Qual è infatti la gravità di queste patologie trasmesse da parassiti? Sì, molto dipende anche dallo stato di salute dell'animale. Nei cuccioli per esempio possono dare delle forme di anemia molto grave che possono portare a morte, nei gatti per esempio affetti da altri tipi di malattie come per esempio l'ADS o la leucemia felina, il sopraggiungere di queste ulteriori forme possono aggravare ulteriormente il quadro clinico, quindi possono dare sintomatologia piuttosto variabile a seconda della gravità, ma nei casi più gravi l'anemia può essere così grave da condurre a morte l'animale. L'altra problematica è quella relativa alle zecche. Esatto, le zecche anche in questo caso trasmettono anche loro questi tipi di malattie, per esempio appunto la riccheziosi o la babesiosi è trasmessa dalle zecche e i parassiti, gli antiparassitari che vengono dati agli animali riescono a coprire sia per le pulci sia per le zecche, quasi tutti e quindi appunto ribadisco diventa fondamentale soprattutto d'estate mettere questi prodotti, però anche d'inverno teniamo conto che con temperature sopra i 10 gradi le pulci e le zecche riescono tranquillamente a vivere e quindi anche d'inverno sarebbe bene trattare gli animali. Oltretutto le pulci riescono a, se l'animale è colpito, a produrre uova e larve che poi si depositano dentro le nostre case e dentro le nostre case le temperature non scendono quasi mai sotto i 10 gradi, quindi l'animale non si libera mai completamente da queste forme parassitarie e quindi a maggior ragione il trattamento deve durare perlomeno nei mesi estivi e nei mesi invernali almeno un mese sì o un mese no, vanno trattati. Un trattamento che serve anche per gli ambienti che frequentiamo poi noi umani, insomma le zecche possono attaccare anche l'uomo? Esattamente, spesso mi chiedono cosa devo fare nell'ambiente per liberarmi da questi parassiti, la risposta è semplicissima, vanno trattati gli animali, se uno tiene l'animale costantemente coperto dall'antiparassitario l'ambiente si sterilizza dal punto di vista dei parassiti naturalmente e questa è la forma più efficace e anche la meno dannosa perché andare con prodotti a livello ambientale sono prodotti piuttosto aggressivi e che possono anche dare problemi all'uomo, infatti le ditte di disinfestazioni addirittura chiudono gli appartamenti per qualche giorno, mentre gli antiparassitari sono innocui per le persone e anche per i bambini ormai sono sicurissimi e quindi il metodo più efficace, più sicuro per la salute dell'uomo e dell'animale è il trattamento con gli antiparassitari degli animali. Benvenuti alla rubrica nella quale ci occuperemo di salute dei nostri amici a quattro zampe, in questo caso specifico ci occuperemo di dermatologia con il dottor Albanese, oggi parleremo di dermatiti da ectoparassiti, ecco quanto è importante in questo caso la prevenzione antiparassitaria? La prevenzione per i parassiti sia interni che esterni è molto molto importante, nell'ambito dermatologico quindi parliamo di una profilassi preventiva per i parassiti esterni, l'importanza è duplice sia perché possono creare dermatiti sia perché alcuni possono anche trasmettere malattie potenzialmente pericolose. Quali sono le conseguenze legate alle infezioni parassitari per la salute dei nostri cani e dei nostri gatti? Le pulci possono essere causa quindi di prurito, di dermatiti e molti cani e gatti possono sensibilizzati alla saliva delle pulci sviluppare una ipersensibilità, quindi un'allergia alla saliva delle pulci, questo che comporta che il morso delle pulci determina, fa scatenare delle reazioni allergiche molto molto importanti quindi con forte prurito, enorme disagio e lo sviluppo nei casi non controllati di anche dermatiti molto importanti e molto estese. In quale periodo dell'anno dobbiamo sottoporre i nostri animali al trattamento antiparassitario? Ecco, contrariamente a quello che accade normalmente nella pratica quotidiana siamo abituati a interloquire con proprietari che applicano gli antipulci e gli antiparassitari in generale solo in alcuni periodi dell'anno. La primavera e l'estate sono i periodi in cui il proprietario ritiene sia necessario trattare i propri animali. In realtà le condizioni climatiche, ambientali e anche domestiche fanno sì che le forme immature di questi parassiti possano portare avanti in ciclo biologico e quindi essere presenti tutto l'anno. Quindi non esiste il periodo dell'anno nel quale gli animali non debbano essere trattati con gli antiparassitari. Possono i parassiti o altri insetti trasmettere malattie pericolose per la vita dei nostri amici animali? Assolutamente sì. Ci sono malattie importanti come per esempio quelle trasmesse da vettori, intendiamo le zecche, che possono trasmettere malattie anche mortali per il cane, ma anche le zanzare, come sappiamo possono trasmettere malattie come la lesmaniosi, che è molto molto diffusa nel territorio nazionale, o anche malattie come la filariosi cardiopolmonare e quindi da qui si capisce come sia fondamentale che gli animali vengano regolarmente trattati con degli antiparassitari. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Benvenuti alla prima rubrica con l'addestramento. Ci troviamo a Pieve, a Maiano, con Simone Grotti. Oggi parliamo di una problematica abbastanza frequente, quella del cane che tira il guinzaglio. Come si può risolvere? Allora, per insegnare a un cane a non tirare il guinzaglio, la cosa più importante di tutte è modificare quello che è il nostro comportamento. Esempio, se io cammino guardando il cane, ora non fate caso a lei, è molto brava, tendenzialmente il cane è portato ad andare avanti, ad avanzarmi, sfondare. Se io invece cammino dando una direzione al cane dicendo dove voglio andare con la mia postura e dialogando con il collare, il cane mi segue. Quanto è importante la postura, quindi l'utilizzo del braccio, della mano? È fondamentale, ok? È la cosa più importante di tutte. Perché se io non do al cane la mia direzione, quello che io voglio che lui faccia, se non glielo dico, la comunicazione fra cani è per il 99% posturale, il cane non capirà mai. E allora dice, nel dubbio, ok, prendo l'iniziativa. E allora il cane inizia ad annusare in terra, a dire, ok, io vado e dico, tanto è bello. Il padrone tendenzialmente poi segue, perché pensa di far stancare il cane annusando in terra, di assecondare, perché tanto si esce per fare bisogno, comunque per stancare lui. Quindi perché è importante che io cammini in un certo modo? Cosa errata, perché è molto più stancante per un cane una passeggiata concentrata, mirata, in cui il cane deve seguire il padrone seriamente, piuttosto che una passeggiata, io vado e dico, il cane va di là, io seguo, ok? Ecco, quali sono dei piccoli consigli? Ah, i piccoli consigli è, il primo è rilassate le braccia, il secondo, testa dritta e guardate avanti, dimenticatevi di avere il cane, il terzo è, quando il cane vi sopravvanza, date una leggerissima trazione, tornate indietro, quando il cane vi affianca, ritornate in direzione e riaccelerate, e ritornate al vostro passo, ok? Ogni volta che il cane vi avanza, questo, trazione leggera, ritornate, ridate la direzione sempre, quando il cane vi affianca, tornate nella direzione, perché se stai passeggiando vai da un punto A a un punto B e quindi prima o poi a bici devi arrivare, ok? Queste sono le cose più importanti di tutte. Quanto tempo ci vuole però per insegnare ad un cane a non tirare, a un cane che tira? A un cane ci vuole due minuti, al padrone ci può volere un po' più di tempo, di tutto lì è soggettivo, ok? Comunque sia in due lezioni, se il padrone sa come comunicare bene, lo fai, il grosso, poi le sfumature vengono col tempo, la pratica e tutto quanto. Ecco ci sono varie… Comunque sia, è breve, perché se tu impari subito a dare la direzione col cane, hai fatto gran parte del lavoro. Quanti sono i cani che tirano a guinzaglio? Tutti, basta andare in giro per la città e ne rendi conto, sono veramente pochi i cani che non tirano. Tendenzialmente sono quelli assefatti dagli stimoli, quindi cani di una certa età, dai cinque anni in su, perché ormai conosco tutto, non mi interessa più andare a fufu. E sono loro, quindi non tirano tutti gli altri, tendenzialmente tirano, perché anche come comportamento appreso, se voglio ottenere qualcosa devo tirare. Il più delle volte è questo, perché vogliono andare in aria cani, vogliono annusare quell'albero, vogliono usare quel ciuffo d'erba, allora tiro, tiro, tiro e arrivo. Ci sono varie tipologie di collare, ecco qual è quello che consigli? Partiamo da una pettorina, un collare di questo tipo? Io consiglio a… dipende tutto dal cane, perché devi sempre valutare il soggetto prima di utilizzare un determinato strumento. Comunque sia, io sono un amante dei collari, quindi lavoro quasi sempre con quello, ok? Il fisso è un buon collare, soprattutto comunichi, però se io ora il cane è deconciato, se io non so fare questo, non so dare questa intensità, qualsiasi cosa io uso è inutile, è da questo che ti serve l'addestratore, capito? A insegnarti questa, che a volte basta questo movimento qui. Come vedete il collare muove la pelle. E' un beneficio insomma anche per il cane, imparare a non tirare più che per il padrone? Sì, sì. Stare in tiro, che sia anche con la pettorina. Con il collare, soprattutto se i collari vanno tenuti alti, per non andare a battere sulla trachea. Se io faccio così, parlo, se io faccio così non parlo più. Dopodiché, se tenuto basso, il cane strozza. Se infiamma la trachea si possono creare dei danni, se il cane sta sempre in tiro. Con la pettorina è uguale. Alcune pettorine vanno intaccare sotto le ascelle e a lungo spostano le spalle. I cuccioli in crescita possono creare danni importanti di spesi ai gomiti e tutto. Ok? Quindi è fondamentale anche in termini di salute che il cane non tiri, capito? E poi salute psicologica. Perché comunque sia il cane che non mi tira, è un cane sereno, che sa stare, che se vede uno stimolo, anche se gli piace, sa controllarsi. Perché dopo lavori tutto sugli autocontrolli del cane. Io il guinzaglio dopo un po' non lo uso più. Lei con me, come avete potuto vedere, è brava. Perché? Ci lavori sopra, il cane dopo inizia a dire ok, mi devo comportare così. Vado e faccio. Non utilizzerai mai più il guinzaglio. Dopodiché ci possono fare tante altre cose. Perfezionare e tutto. Nella prossima puntata vedremo proprio quali sono gli errori più frequenti e come correggerli. Parliamo oggi di alimentazione. Nel caso specifico della cane, la principale differenza è ovviamente quella tra umido e secco. Quali sono le caratteristiche del secco? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, l'alimentazione cane si differenzia fondamentalmente con due tipologie. L'alimentazione secca e l'alimentazione umida. Di solito la razza è quello che fa un po' la differenza e anche la tipologia e la taglia del cane. Nel monossoide più che altro, quindi pastori, retriever e tutto quello che è, si usa di più un'alimentazione umida. Dipende dalla tipologia di carne, di come la vogliamo impostare, ma tendenzialmente alimentazione umida. 80% con un 20% di alimentazione secca, che possono essere degli integratori, che possono essere dei fioccati o addirittura per arrivare al sistema BARF. Per quello che riguarda le taglie di media e piccola taglia parliamo di alimentazione secca, dove appunto si differenziano per monoproteici e ipoallergenici. Dopodiché si apre anche un altro discorso sul secco e solo a tipologia della proteina, che è il pesce o è la carne, in varie percentuali. Dipende un po' le aziende, come sono impostate a livello di ingredienti, come tipo di percentuali di carne e via dicendo. Cosa si intende per monoproteico e ipoallergenico? Allora, la differenzazione principale sta così. Nel monoproteico si intende un prodotto che abbia un'unica fonte animale proteica, che potrebbe essere in alcuni casi l'agnello, il pesce, potrebbe essere l'anatra, manzo e tutto. Però solo e nel prodotto esclusivamente una fonte proteica, quindi tutto agnello. Di solito aggiungiamo come fonte di carboidrato o di amido il riso, però semplicemente questo. Nell'ipoallergenico invece la differenzazione, oltre ad essere sempre unica fonte proteica, la differenzazione principale è senza cereali. Quindi senza mais, senza cereali, senza riso, senza niente, solo carne e in qualche caso viene aggiunto per dare un apporto a livello di carboidrati la patata, che è un tubero e quindi non abbiamo tutto il discorso, molto degli amidi e tutto. Quindi grain free, senza cereali, senza glutine, proprio per le vere intolleranze a livello dermatologico, a livello gastrointestinale. Quella è la differenza principale negli ipoallergenici dai monoproteici è quando abbiamo una patologia riconosciuta, che potrebbe essere una sensibilità gastrointestinale, potrebbe essere una forte dermatite o purtroppo oggi ci sono sempre più casi che la genetica spinta un po' troppo nelle razze causano delle sensibilità a livello intestinali particolari, dove non è possibile curarlo con farmaci, ma con un prodotto ultraipoallergenico. Ovviamente la differenza fondamentale resta la qualità della carne, o sono tantissime le carni che possiamo trovare all'interno sia dei mangimi secchi che umidi? Assolutamente sì. Allora, oggi il mercato è diventato molto vasto, quindi abbiamo tantissimi prodotti. La differenzazione a livello di mercato principale sono tre. Si differenziano in economico, premium e super premium. La differenza sostanziale fra queste tre categorie è la quantità di carni fresche nel prodotto. Sotto il 20% parliamo di un prodotto economico, dal 20 al 35% parliamo di premium. Oltre il 35% di carni fresche in un prodotto parliamo di super premium. Molto molto importante in qualsiasi prodotto, in qualsiasi azienda è l'etichettatura. Oggi con la nuova normativa europea, le aziende non possono più fare tanti giri di parole. Quindi quello che consiglio io sempre ai nostri clienti, a parte i nostri prodotti, ma qualsiasi altro prodotto di qualsiasi azienda, è di guardare la percentuale di carne e soprattutto dove, nelle decretatura, nella dicitura ingredienti, dove è posizionato la carne. Perché per legge il primo prodotto, la prima dicitura che trovi è quella che ce n'è in quantità maggiore. Quindi un prodotto che ha come prima voce carne disidratata, carne fresca, con una percentuale sopra il 35% è da considerare un super premium, quindi un prodotto di alta gamma. Quello che diciamo la teoria scientifica ci dice che il cane deve mangiare l'80% di secco, un 20% di umido, ma di questo secco con percentuali di carne sopra il 33% per avere una dieta almeno sufficientemente equilibrata. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Adesso spazio alle adozioni, ci troviamo al canile comunale di Arezzo gestito dall'EMBA e oggi conosciamo un'amica a quattro zampe, Vanda. Chi è Vanda? Allora, Vanda è una meticcia segusa, è arrivata in canile a inizio gennaio 2017, è stata trovata per le strade del Torrino e sicuramente abbandonata perché ormai è anziana e non più adatta alla caccia. Ecco, Vanda è una cagnolina dolcissima, insomma, adatta a tutti i tipi di adozione. Sì, assolutamente, è una canina molto tranquilla, come tutti i segugi ha voglia di passeggiare, di annusare in giro, poi ovviamente si stanca velocemente a circa 9-10 anni, però diciamo che ancora è in salute e cerchiamo per lei una bella adozione perché comunque sarebbe bello poter trovare casa anche a questi canini più anziani. Sono tanti i cani da caccia, insomma, che poi finiscono qua al canile? Sì, assolutamente, il maggior numero dei nostri ospiti sono tutti i cani da caccia. Di solito vengono trovati giovani di un paio d'anni o cuccioloni che quindi vengono provati non adatti e vengono subito abbandonati. Lei invece è stata trovata anziana, si vede il suo lavoro l'ha fatto e una volta invecchiata non serviva più a niente. Quali sono le necessità di un cane da caccia per chi poi dovesse adottarlo? Allora, un cane da caccia ha bisogno di molto tempo, nel senso hanno bisogno di fare passeggiate non solo in ambienti urbani, ma sarebbe bello anche per campagne o addirittura per boschi dove possono annusare tutto quello che vogliono. Hanno bisogno di spazio, però si trovano anche benissimo in appartamento, non è che c'è bisogno di avere un giardino, basta avere il tempo da dedicargli. Lei sicuramente starebbe benissimo in casa anche perché è molto freddolosa, infatti d'inverno la vestiamo con golfini perché ha veramente freddo, quindi più sta il caldo più è contenta. Ecco, non ha problemi con bambini, con altri cani, con altri gatti? No, no, assolutamente, sta insieme a tutti i tipi di cani, ai gatti non gli dice niente, con i bambini è tranquillissima come con qualsiasi persona. Quindi insomma aperta a tutti i tipi di adozione e chi fosse interessato può rivolgersi a voi? Esattamente. Per adesso è tutto, l'appuntamento è ovviamente per la prossima puntata, sempre in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Ciao!